Una bella collaborazione con tutti gli istituti culturali cittadini perché ovviamente in questo periodo dove abbiamo la Pasqua il 25 aprile e primo maggio abbiamo bisogno che la città sia aperta ai turisti che arriveranno e vorranno visitare la nostra città. Ecco perché abbiamo pensato a questo bellissimo progetto Primavera al Museo con una serie di date, quindi di orari integrati, di apertura di tutti i siti importanti della nostra città che vanno ovviamente dai nostri musei ai luoghi della cultura della Fondazione Carifano, della Curia, delle visite su prenotazione ad esempio a Palazzo Vescovilo oppure alla Fanno Sotterranea, al Teatro della Fortuna che tra l'altro il 30 e il 1 maggio avrà un bellissimo spettacolo terrestre. Quindi la possibilità di vivere a pieno la nostra città e i luoghi della cultura. Ovviamente a coordinare tutto questo un sito internet, il nostro ufficiale del turismo della città di Fanno www.visitfanno.info dove entrando si potranno entrare anche i link a tutti questi istituti culturali e un numero di telefono, il nostro .iat digitale, il servizio Collego che avrà una persona che risponderà dalle 9 alle 23 a tutte le persone che avranno bisogno di informazioni. Grazie. Grazie. Grazie.